Sicurezza sulle strade al centro dell'incontro avvenuto a Cacorner tra gli studenti dell'Istituto Parini di Mestre e la Polizia Stradale di Venezia. Presente il Presidente della Provincia di Venezia, Francesca Zaccariotto. Sensibilizzare i più giovani sui pericoli della strada. Questo è lo scopo dell'incontro avvenuto a Cacorner tra gli studenti delle classi terze e quarte dell'Istituto Parini di Mestre e gli agenti della Polizia Stradale. Un incontro conclusivo nell'ambito di un ciclo rivolto agli alunni delle scuole superiori. Promosso dall'associazione PASAV in collaborazione con la provincia di Venezia e che ha coinvolto 5500 ragazzi di 12 istituti con un unico importante messaggio. Quello del divertimento ma il divertimento senza sballi creati dall'uso di sostanze stupefacenti o sostanze alcoliche e quindi divertirsi al naturale che è una cosa che dà molta più soddisfazione. Obiettivo degli incontri è stato quello di far conoscere agli adolescenti quanto prevede il codice della strada. I rischi alla guida dopo aver assunto alcol e stupefacenti le campagne di educazione stradale negli altri paesi europei. Di particolare impatto sui ragazzi la testimonianza di Federica Zago rimasta in sedia a rotelle in seguito a un terribile incidente e divenuta poi campionessa italiana di kayak. C'è un significativo feedback tra il relatore e loro a testimonianza dell'importanza e di quanto sentono forte questo argomento. Non solo per la conoscenza di regole legate al codice della strada ma anche perché attraverso immagini, racconti di esperienze, di storie possono capire che la vita è un bene prezioso e che dipende sicuramente dalla salute ma dipende anche molto da noi.